dell'associazione gemellaggi con Turnau, qui a Montevertuso, queste tradizioni che impressione ti danno? Diciamo innanzitutto l'amore per Positano che continua da quanti anni? Quanti anni sono? Quanti anni? Noi abbiamo 23 anni di gemellaggio. 23 anni di gemellaggio? Sì, sì. E qua a Montevertuso è qualcosa di bello? Per noi è sempre molto interessante vedere le tradizioni della nostra città gemellata. Adesso io sono qui con amici e noi siamo molto felici di stare insieme con Positano News. Grazie, grazie, grazie.